a cosa stai pensando? dove vivi? qual è il tuo lavoro? cosa stai sognando? inserire immagine del profilo diventa qualcuno hai ancora solo 11 caratteri su 140 il tuo profilo è completo condividi inserire immagine del profilo diventa inserire immagine del profilo diventa inserire immagine del profilo diventa inserire immagine del profilo diventa